Ecco, ci troviamo al ristorante River di Contrada Brecciaio di Santusagno del Sancho per la cena sociale di fine stagione agonistica della Virtus Castelbrentano. Ecco, questi sono le tavole, qui sono gli allievi, i tranticelli. Ecco le varie tavole, ci sono i genitori. I dirigenti. Tutte le tavole infantite. Questo è il video. Il video, bravi. Ecco i nostri ragazzi. Ecco, questo è il video. I nostri ragazzi della festa sociale di fine stagione. Napoli. No, Virtus Castelbrentano, padre. Bravo. Buon appetito, eh. Ecco, ecco, andiamo qua. Parlate, non fatici caso se vuoi perché vanno scappando i ragazzini. I ragazzini vanno scappando, stanno fuori e entrano quando fuori appunto. Ecco la tavola, ecco la tavola, ecco i camerieri. Prego, prego. La festa sociale della Virtus Castelbrentano, qua il river di Precciaio di Santo Sagno del Sandro. Vabbè ragazzi. Buon appetito, eh. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Ecco il nostro primo ciattino. Sì, è un po' stanco sto, sempre scappando, sempre scappando. Poi ecco la nostra consigliera, mille neoeletta al Comune, complimenti per il consenso avuto. Hai mangiato? No, sì, sì, sto stanco, sto stanco, domanda un'altra volta a Città Santana. Dimmi, dimmi, sì, appunto, è di Clavia, appunto, è il nostro impermiera, bravo. Ecco Massimo, che è successo a Marco Lapeppe? Oggi il sistema poteva fare un pari di gol con la sua velocità, appunto. Eh, eh, non mi ha detto domani forse viene, eh? No, non mi ha detto domani. Ah, non puoi rischiare. No, va bene. A me mi ha detto che voleva venire. A me mi ha detto che voleva venire. No, va bene. No, va bene. No, va bene. Ok, vi lascio un buon proseguimento. Buon proseguimento. Ciao, ecco, è la nostra sera, è tutto a posto. Ecco, i genitori dei vostri ragazzi. Ed è, eh, da Scutte di Bia, per ogni... Buon. Eh, è buono. Eh, non è più italiana. Che so la piatta? La francese, mi pare. Eh, ecco, le pimpe. Lo vediamo qua. Ecco, qua c'è la squadra femminile di calcio a cinque. Qua, qua c'è la squadra femminile, dirigenti. Qua, qua c'è il mister capitano. Qua, qua ancora le tavolate dei ragazzi. Qua, qua c'è la pizza, si è disposta. Enrico, ecco, ecco i nostri ragazzi. Sotto al posto, bravi. Ecco, facci il giro. Sì, sì, sto facendo una ripresa qua Ecco il nostro Domenico, giusto? Ecco Il nostro Diego, giusto? Cristiano Domani mica vieni Vieni domani? Eh, a posto Allora bisogna fare Ecco C'è anche Simone Tutti presenti Seppure Samuele Samuele lo sapete che è il mio pronipote? Samuele È il figlio di mia nipote Pro nipote Come cartone animati faccia Ecco una tua tavolata Questi sono gli allievi C'è Alessio Ceroli Tei Di Mata Emanuele Luca Rulli Gabriele Lontino Mac Cristian Renzetto Carol Carol sta qua Nicolò A posto? Pitbull Questo è il figlio Qua c'è un'altra tavolata Qua c'è un'altra tavolata Eh, bravi ragazzi Buongiorno 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 Bravo, bravo Nostro Lollo Tutto a posto Qua c'è Ecco la mia sala E' la prossima ripresa